che rideranti più che rideranti più che rideranti più stop grazie mille, io vengo appena adesso da un corso semestrale per guarire tutti i problemi che sono agli arti, le fratture, le lossazioni, sublustazioni, qualsiasi cosa vorrei dimostrarvi questa teoria, l'ho imparato però ho bisogno di un fratturato c'è un fratturato tra voi? io fratturo anche al momento non è un problema perché sapendo questa cosa mi porto il fratturato da casa signore un bel applauso a Sto Tozzo Sto Pazzo scusate, scusate usciamo la tua persona, mi devi spiegare perché sei fasciato di qua e zoppichi con questa sposta la fasciatura non sposti la fasciatura, prima di uscire ti guardi no, vieni qua, ormai l'hai fatto va bene, allora si è otto tosto sto Pazzo vogliamo spiegare gentilmente al pubblico come si è procurato questa che è una fasciatura grazie a te certo sotto cosa c'è? una sfrattura una sfrattura composta una sfrattura composta premesso io sono un grande esperto di Freiklimbing di? Freiklimbing cos'è un ballo sudamericano? arabicamente si chiama Freiklimbing? si, sono capovogger capovogger c'è il capovogger nel Freiklimbing? facciamo delle spedizioni va bene, allora, sarà caduto il dream Pista nera Pista nera 8474 Pista nera, Freiklimbing sono tutte così, non è che ce l'ha specificato Pista nera Pista nera 8474 a lei, lei le resta sei all'amazone va bene, ci staremmo rabbiamo rabbiciamo no, eravamo in otto in otto io, Christopher, Martino, Fermo non interessa nero alla fine finisco benissimo quindi a un certo punto perché comunque attaccare tutti i conti i ciapini alla corda ci sono i ciapini nel Freiklimbing? 8 ciapini 8 ciapini io, Christopher, Martino non interessa nero alla fine finisco a un certo punto a 400 metri signori, pensate alla spiega di quest'uomo a soli 400 partono tutti i ciapini un, 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 un sembrava l'ultimo dell'anno e rimane attaccato uno un ciapino il mio e gli altri? attaccati alla corda scusa un attimo tu stavi attaccato a 8000 metri dalla legna stavi con un ciapino non così 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 e avevi 8 persone attaccate alla corda io, Christopher non interessa nero si e questi qua cosa facevano? non stavano fermi non stavano fermi non stavano fermi bascolando si bascula le Freiklimbing e allora? e aveva fatto uno due no, ma tutti sono 8 persone in suorzate io non interessa nero 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 si, prova a mani lunghe tu, 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 tu colpo di reni salto no, scusi colpo di reni e sfrattura salto e arrivi a sfrattura in misteria, no ho chiesto il colpo ah male chissà che male all'inizio niente vabbè alla fine finito